buongiorno signore e signori benvenuti a radio montale il cetriolo io sono andrea io sono enrico e niente ripeto questo è il cetriolo smetti con questi asmer e a parte mi hanno scritto in un sacco di persone questi momenti asmer sono troppo belli mettete prende così ogni tanto che devi fa sta cosa perché io ho la voce sua dente c'ho la voce nasale come la mia se vuoi io posso fare la voce sua dente che ti parlo così oddio sembra un telefono erotico no a proposito del tema di oggi oggi noi andremo a parlare di purtroppo ho dovuto assecondare Andrea però io volevo parlare oggi di rispetto comprensione ed empatia e invece no parliamo di porno esattamente perché noi non facciamo podcast seri vedi non lo riesco a dire podcast Enrico podcast non è difficile se vuoi ti faccio lezioni di l'ecopedia dillo sempre tu podcast noi facciamo il podcast serio ecco morale oggi parliamo di porno perché la mammoletta di Enrico la parla di dispetto per esempio no questo non è il nostro podcast oggi si fa educazione sessuale no non facciamo educazione sessuale facciamo porno oggi no aspetta allora non far intendete non è che mi sto che mi sto come dire ripassando Enrico in sala registrazioni sappiatelo sì effettivamente era un po' infelice no sì però vabbè oggi è stata una mattinata alquanto devastante anche perché stiamo registrando la prima mattina sì esatto c'è Enrico che è sfranto sono devastato quindi non so neanche cosa dire oggi oggi sono proprio talmente tanto devastato che ho dato corda da Andrea nel dire e va bene parliamo di porno sì ok dai su facciamo quindi visto che te hai avuto questa grandissima idea prego a te la parola allora io innanzitutto parlerei dell'origine della parola porno sapete da cosa deriva porno Enrico lo sai? no deriva dal greco porne che cosa vuol dire porne? perversione zoccola scusa mi dispiace mi dispiace per la brutalità meretrice meretrice cortigiana cortigiana sì peripatetica peripatetica sembra anche molto più chic sembra quasi non so un'accademia la d'artoborgo ah scusa wow che simpatia senti applausi senti visto wow perché voi non lo sapete ma adesso noi abbiamo scoperto che la sala registrazione ha questi tasti e tutti questi effetti quindi proprio stiamo oggi siamo molto boomer siamo molto boomer Andrea ha detto wow facciamo queste cose assurde quindi niente ok dovremmo mettere altri tipi di suoni però per ora abbiamo questi quindi beccate questa nice ok adesso abbiamo esagerato stiamo usando soltanto quella sì esatto vabbè poi però ce ne saranno altri che vi faremo vedere più in là detto questo quindi parliamo cominciamo a parlare effettivamente di porno allora Enrico dai ti interrogo oggi dimmi quali porno quali siti porno conosci dai allora ci sono tanti generi abbiamo quelli in streaming quelli in live quelli a fumetti Enrico Enrico non siamo Steve Jobs quali siti porno conosci allora cominciamo a fare l'eleco allora il più conosciuto da tutti quanti il sito arancione e nero alias Pornhub poi abbiamo quello rosso che è mi pare XX no non è XX è NXX o come si chiama qualcosa XNXX sì quello è quello blu quello rosso non mi viene il nome però comunque è sempre così poi c'è XHamster c'è YouPorn e sono questi tutti quanti quelli in in streaming poi abbiamo i live che c'è ad esempio Chatterbait o Jasmine che sono due diciamo dei più famosi e poi ci sono anche quelli dei fumetti ragazzi ragazzi è lanciato ha studiato ha studiato state of mission dire no sono circa 10 anni che si prepara per questo esame beh a mia difesa posso dire tranquillamente che so che in teoria fanno bene cioè procurarsi del piacere solo che fa bene questa la tagliamo questa la tagliamo non credo dai no no noi non tagliamo niente non tagliamo niente lasci tutto quanto così al naturale così come viene oggi non sono più Maria De Filippi come era l'altra volta ho detto queste cose io non riesco più a guardare la mano di Enrico perché la vedo tutta callosa no capisco l'eziologia dei calli come dire che schifo con calli e niente oggi proprio siamo fuori di testa ragazzi oggi veramente sono uscito dal mio ruolo di Maria De Filippi che deve fare da mediatore per fermare Andrea mamma mia così drastico comunque Enrico anche lui ha come dire i suoi gusti personali adesso lui non ce li ha voluti illustrare bene però io so quali sono oh mio zio Andrea Enrico dai dicelo tu se no lo dico io dai cosa ti sei scritto lì su quel telefono che già ti vedo così pronto Enrico gli piacciono le grannis ah si quello le grannis le grannis che per chi chi non lo sapesse viene da grannis alias nonne le nonne quindi Enrico è un gerontofilo che schifo lui nega lui nega ma me l'ha me l'ha confessato in anteprima si io ti ho fatto vedere qualche video di quelli che mi piacciono ma vaffalo te invece piuttosto te dai su esprimiti io si no io sono puro il casto dai ci credeva colui dai su esprimiti esprimiti e allora devi dare una motivazione anche pure la motivazione tu non me l'hai chiesta la motivazione ma guarda no io in realtà sono un personaggio poliedrico cioè quello che trovo prendo quindi tutto quanto sessuale direi ma non hai capito un cazzo quello che c'è sulla schermata home a meno che non siano cose assurde scorro un po' e prendo cosa intendi per cose assurde gente che si attacca alle corde no tipo le cose che piacciono a te sai nonne le cose gente si bene quindi andando avanti già una volta ci aveva dato un'illustrazione delle sue pulsioni deviate con le cinesi che si truccano andatevi a risentire il primo podcast a proposito c'è pure per quella cosa lì a momenti mi menano perché perché non avevano capito che effettivamente si tratta di satira perché inizialmente non abbiamo parlato quindi se me ne sono uscito con questa cosa ma ce ne sono arrivati dei commenti di morte tipo adesso li vengono a prendere bastardi ah te si a me perché tanto te non ce li hai i social quindi te io ce li ho i social si facebook manco i boomer twitter c'è anche instagram hai instagram? si rimani anonimo mi raccomando perché se no ti vengono a prendere a casa veramente ti cercano oh mamma mia sei l'estremista del gruppo no io non sono l'estremista vatti a ascoltare l'altro podcast io parlo di fatti fatti io vado a smettere qua con le tue difese perché sei indifendibile allora veramente Enrico si basta no dai a parte scherzi mi sono offeso a parte scherzi io offendo sempre noi facciamo satira e questa è diciamo non proprio una farsa ma in un certo senso si sembrerebbe quasi una pezza di rundini se avete presente quindi questo è considerato che stavamo parlando di porno si c'era un argomento in particolare che va a congiungerci col mio argomento alias il rispetto che sarebbe il bondage ecco nel bondage direi che il rispetto viene accartocciato bello pressato e poi è buttato no secondo me sta cosa del bondage non c'entra no allora facciamo no 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 ce l'ho ce l'ho ce l'ho facciamo tipo aspetta rispetto comprensione empatia allora ok va bene ci penso io vai allora Enrico però ogni tanto lo devo accontentare vedetelo qua sta tutto sparuto come un cucciolo di beagle che latra dentro allo studio che latra oggi sono devastato che latra si e insomma lui aveva proposto proviamo a dare un po' di soddisfazione anche a lui rispetto comprensione empatia e come l'altra volta aveva fatto con le donne anche quest'oggi lui ha dato tre punti che io ho riassunto in uno solo perché alla fine il porno è traduzione di rispetto comprensione empatia sì è vero porno è certo allora il rispetto vabbè è ovvio che ci sia nel porno non è che cosa c'entra perché sto ridendo Andrea dai perché sto ridendo anche te perché stiamo ridendo dopodiché ci sta comprensione nel porno se comprendono benissimo si comprendono e si compenetrano e poi c'è l'empatia beh l'empatia lì ce ne sta quanta ne vuoi c'è proprio il sentimento che tu vedi quando recitano sì esatto sì sì c'è proprio il sentimento capito la complicità sì poi nella recitazione lì è proprio da Oscar a proposito di recitazione io ho una domanda anche a voi ascoltatori che ci seguite in modo assiduo se dovete rispondere a me quindi va bene ecco esatto intusatemi di Instagram scrivete a Enrico ditegli quello che volete no e incoraggiatelo ad aprirsi anche sui suoi dissidi interiori perché ancora non abbiamo capito se è Maria o è Enrico in tutto ciò sì e vai detto questo la mia domanda è ma all'idraulico la minchia di 30 cm gliela danno in dotazione quando lo assumono no perché se è così io voglio fare l'idraulico da grande ah quindi ammetti i tuoi limiti non ammetto i miei limiti però minchia 30 cm vabbè effettivamente 30 cm minchia 30 cm di minchia cioè wow pazzesco bella battuta complimenti non faccio partire la soundboard perché l'abbiamo usata già troppe volte oppure potrei fare questo sono molto contento avrai notizie dal mio avvocato sì e ho anche il ruolo dello step bro no esatto perché poi c'è questa cosa dell'incesto controllato no sì come fai a a fare un porno su un incesto vabbè semplicemente ci metti step davanti è finto capito non è vero step mom step sister step bro no ma poi se voi ci fate caso no quanto sono smemora quanto sono smemorate le massaie dei porno no arriva l'idraulico non c'hanno mai una lira mai mai sono sempre povere sempre sempre posso pagarti naturale lui che fa ti risponde che fai non accetti che fai te ne privi oh mio dio no vabbè comunque questa trasmissione sta raggiungendo uno squallore ma uno squallore ma oggi guarda secondo me spotiamo proprio perché non ci sono io che sono il paracadute perché se tu sei una Ferrari senza freni che parte sul deserto completamente viatto e voli io in genere sono il paracadute che ti frena dal piantarti contro un muro oggi invece no oggi oggi da secondo sarà anche il turbo dai ci da un po' di partita un po' di più così proprio ci andiamo a schiantare nel disastro dello schifo sì sì così almeno ci facciamo censurare definitivamente no e poi buttiamo queste ore di scuola lavoro molto utili evviva esatto carriera buttata al terzo episodio dai e vai anzi siamo resistiti così tanto è incredibile no è vero è vero anche perché i tuoi episodi avevano tutta una loro certa connotazione irriverente diciamo diciamo connotazione irriverente oggi in generale oggi non attacchiamo nessuno stranamente oggi parliamo di questa cosa sì 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 è vero è vero oggi non rischiamo le manette quindi vi salutiamo amici della postale questi ci ascoltano questi ci ascoltano sempre loro sono loro sono sempre qua dietro però noi siamo ormai amici sì sì ma oramai proprio ci mandano il caffè sì ne rispondono pure complimenti andate avanti andate avanti così abbiamo più prove e niente seguite in diretta streaming signori di twitch il processo che si terra a dicembre sì faccio metto in aula di senato sì in aula di senato ciao in aula giuridica metto il telefono così su twitch esatto voglio fare lo streaming e quando ci condannano diciamo dove andrà così fratelli eh dove andrà così fratelli e bene quindi che dire tutte quante le step sister invece hanno problemi nell'incastrarci in qualsiasi posto esistente sì esatto esatto pure nei lavandini che sono aperti no vabbè ma infatti ci sono dei temi talmente poco credibili no a me fa ridere la recitazione c'è ancora me ne ricordo uno che poi è diventato pure un meme del tizio lampada non so se l'hai mai visto che ci sta praticamente questi due che stanno a casa stanno facendo zumba zumba poi arriva la madre della ragazza e il ragazzo per nascondersi cosa fa si mette in un armadio no si mette sotto il letto no si mette dietro al divano sotto i cuscini del divano no smonta una lampada e si mette il cappello della lampada in testa per prendere il posto della lampada e la madre non se ne accorge questo si chiama mimetismo sono tipo le mimetiche comunque io vorrei sottolineare come Enrico abbia fatto le segesi di tutti i siti porno per questa puntata perché lui dice che lui dà la colpa a me per tutto ciò ma io tutte queste cose non le so eh cioè Enrico vuol dire proprio che ha fatto una ricerca approfondita assolutamente ci sono tanti modi perché i gusti cambiano ragazzi l'ha detto eh cosa ragazzi l'ha detto i gusti cambiano i gusti cambiano tra un po' ci confesserà tutte le sue pulsioni deviate restate qui con noi dopo la pubblicità si sotto il cielo della verità proprio quello e no vabbè ma comunque ragazzi in tutto ciò in questa puntata voi non lo sapete ma come l'altra volta Enrico sta come dire giochicchiando smetti ah non è vero oh mio dio va bene allora e poi altra cosa il poliziotto il tema del poliziotto ah e si c'è anche quello ma anche lì danno due manganelli in omaggio al poliziotto quando viene assunto signora la devo arrestare no la prego no non lo faccia se vuole esatto ci provo io